Buonasera, altro appuntamento con la trasmissione Lo Scrigno. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere negli studi il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Spagnolo, in riserva si dice, in pensione, perché questa scelta, la scelta di avere nei nostri studi l'amico generale Francesco Paolo Spagnolo. Per parlare di un tema, la memoria per la pace, questo può essere il tema della trasmissione. Ieri c'è stata la giornata della Shoah e prendiamo spunto da questo proprio perché vogliamo nel nostro piccolo trasmettere a voi, trasmettere al nostro spirito questo desiderio di pace e uscire un po' dalle nostre case, relazionarci meglio rispetto ai problemi che ancora oggi affliggono il mondo. Non a caso il Papa oggi, nelle varie interviste a Papa Francesco, dichiara che è in atto una terza guerra mondiale. Per le tante guerre che ci sono nel mondo, se sommiamo la portata del problema guerra, il Papa la chiama terza guerra mondiale. E non è un'esagerazione, tenuto conto delle vittime che ogni giorno per questi conflitti perdono la vita e però anche per altre ragioni. Intanto chiedo all'amico Francesco, ci diamo del tuo, con l'amico generale Francesco, qualche sua notizia biografica di vita. 40 anni dati al, veramente con grande amore, credo, spirito di servizio all'Italia, ma soprattutto agli uomini che compongono, hanno composto l'esercito italiano. Questa è notizia. Notizia. Perché intanto nasce la scelta di andare, ecco, di questa vita militare? La scelta è quasi casuale. Un carissimo amico, un giorno passeggiando per il corso, mi dice, ma cosa facciamo dopo? E mi dice, io ho pensato di fare un concorso per l'Accademia Militare di Modena, peraltro il concorso prevede una permanenza di cinque giorni a Modena. Vieni anche tu, ci facciamo cinque giorni di vacanza a Modena. Quindi tutto nasce per caso. Nasce per caso. Peraltro io ho avuto un fratello di 13 anni più grande di me che a suo tempo aveva pensato di fare qualcosa del genere, aveva anche acquisito della documentazione, ma poi non aveva fatto il concorso. Quindi così feci il concorso ed è stata la cosa più giusta che ho fatto. Beh, questi 40 anni di vita vissuti al servizio, no? 40 anni al servizio nell'esercito, al servizio dello Stato. Le tappe più importanti quali sono state di questa storia? Ma le tappe più importanti, beh, l'Accademia Militare di Modena, quattro anni, come dicevo prima, come ti dicevo prima Paolo, di clausura, di studio matto e disparatissimo, come diceva Fosco. Erano molto severi allora? Molto severi, giustamente severi. Io li ringrazio per questo perché è lì che mi sono formato, lì ho formato il mio carattere, lì ho consolidato il mio carattere, diciamo, e lì ho preso tutti gli elementi che poi mi hanno spinto, mi hanno sostenuto in tutti i miei 40 anni di servizio. Quindi l'Accademia, poi il servizio presso le varie unità dell'esercito. Ho passato, ho fatto dieci anni di comandante di compagnia. Comandante di compagnia vuol dire avere contatto ogni anno con 300-400 soldati, riceverli da casa come reclute e poi con loro vivere un anno e poi concederli. E poi continuare a avere con loro rapporti. Io ho ancora rapporti con soldati. Lui credo, rapporti umani. Rapporti umani. Tra persone proprio. Tra persone. Ecco, innanzitutto è un rapporto umano, un rapporto paritetico, un rapporto, sì, anche di subordinazione perché è logico, ma un rapporto di rispetto, che il valore più grande è quello del rispetto. Ora, chiedo scusa, dopo questa esperienza, hai esperienza anche all'estero, fuori d'Italia? Sì. Ci avviciniamo piano piano al problema. Innanzitutto, io ho preparato i primi soldati che sono andati in Libano. Ecco, parliamo degli anni Ottanta. Ho addestrati, ma io non sono andato. Io li addestravo per poi impiegarli lì. Poi ho avuto un'esperienza molto, molto importante, che è stata quella dell'Iraq nel 2004, dove sono stato da comandante del contingente italiano in Iraq e il rappresentante nazionale in Iraq. È stata un'esperienza molto, molto bella, dal punto di vista umano, essenzialmente, ma anche dalla gratitudine che ci veniva dagli iracheni per il nostro impegno di tutti i giorni in mezzo a loro per cercare di migliorare le loro condizioni. Io non ricordo con tanto piacere quelle persone, quegli iracheni con cui ho avuto contatto, persone che da noi si aspettavano molto, dai quali non ho mai... Ci volevano bene. Ci volevano bene. Con i quali non c'è mai stato nessun fraintendimento. Grande lealtà, grande apertura. Nel mio periodo, dopo tanti anni, per la prima volta si è votato, c'è stata un'affluenza, quindi proprio per far capire qual era lo spirito, la voglia, l'aspirazione alla democrazia, la libertà che questo popolo aveva, c'è stata una partecipazione del 90%. Dopo l'Iraq, ormai era diventato vecchio e dopo un po' sono stato, poi l'ultima mia esperienza di servizio, è stata come comandante militare della Puglia e poi per raggiunti limiti d'età sono ritornato a casa, ad Avellino. Allora, per un periodo della vita hai insegnato, hai educato, istruito, diciamo, i militari. A un certo punto della tua vita ti trovi in una zona di grande tensione. Cioè, l'idea che tu ti hai di fatto della tensione internazionale, non dico della guerra nel senso più alto della parola, dal punto di vista teorico, hai insegnato tante cose agli allievi, puoi trovarti lì sul posto con delle persone che potevano realmente reagire, no? O dovevano reagire perché a quel momento venivano attaccati. Hai messo in discussione qualcosa o hai confermato positivamente quello che diciamo l'esercito italiano insegnava ai nostri ragazzi? Ma io ho avuto conferme della validità di quello che noi insegnavamo ai nostri soldati e della condivisione di quello che insegnavamo ai nostri soldati da alcuni fatti, alcuni... In particolare voglio ricordarne uno. Bisognava evacuare il governatore, il governatorato dal luogo in cui era collocato perché era stato accerchiato da ribelli, cosiddetti insurgents, si chiamavano allora. Ecco, e che era una massa di gente che si muoveva senza regole, senza rispetto di nulla e di nessuno e quindi nel trasporto del personale, del governatorato, dal luogo in cui erano stati rimasti accerchiati, l'unità che stava portando indietro questo personale all'interno dei nostri mezzi è stato fatto segno a fuoco da parte di questi personaggi che non erano iracheni, era tutta gentaglia affluita lì in Iraq e che da un ospedale sparavano contro questa colonna che portava in salvo il personale del governatorato. E il governatore che era italiano, la dottoressa Barbara Contini, a un certo punto, visto che ci sparavano dall'ospedale, ha detto al capocarro su cui lei era, ma spara contro quelli, non vedi che ci sparano, spara. E questo soldato ha risposto non sparerò mai contro un ospedale perché la mia coscienza me lo vieta. E quindi questa può essere un po' la sintesi della validità delle cose che insegnavamo e di come queste venivano recepite e accettate e fatte proprie dai nostri soldati. Noi in tutti questi nostri impegni all'estero abbiamo mai avuto un caso di comportamento irresponsabile da parte dei nostri soldati nei confronti della popolazione civile. Infatti i numerevoli sono le testi. L'Italia dovunque va, anche militarmente, lascia sempre un segno di affetto, di amicizia. Ma c'è un altro episodio che voglio ricordare che non è mio però, che non è mio, ma è del giornalista che conduce quella trasmissione su Rai 1 al mattino. Ecco, parlando di Sarajevo. Ah sì, sono quello che attualmente conduce in un cap. Ecco, adesso mi sfugge il nome. E lui nel suo libro dice che a un certo punto incontra dei giornalisti francesi e che gli raccontano un fatto. Dice che pioveva dirotto, stavamo attraversando una strada di Sarajevo, c'era acqua che correva lungo le strade, pozzanghere, e a un certo punto vediamo una colonna di blindo venire verso di noi. Noi, insomma, abbiamo paura che adesso queste blindo ci spruzzino, ci riempiano d'acqua così. Sì, ecco, le blinde arrivano alla loro altezza, rallentano e poi piano piano passano. Il commento è ma vedi sti italiani? Insomma, ecco, questo è il nostro soldato e questo è quello che noi abbiamo insegnato ai nostri soldati e questo che i nostri soldati hanno recepito. Noi, ovunque siamo stati, mai nessuno ha potuto lamentare comportamenti arroganti, comportamenti poco rispettosi, comportamenti non riguardosi nei confronti delle popolazioni. Questo conferma quanto già in fondo è nell'opinione pubblica credo europea e mondiale circa il comportamento dei nostri ragazzi, insomma, di quelli che servono l'Italia nei vari paesi del mondo. Veniamo ora alla commemorazione della Shoah. Ieri, che cosa hai provato? Ecco, anche in base alla luce della tua esperienza come comandante di tanti, tanti ragazzi, in questa giornata della memoria. Allora, una... Cosa hai provato? La risposta. Allora, cosa ho provato? Ho provato tanta tristezza. Mi sono interrogato a me è possibile. È possibile arrivare a questi livelli di crudeltà, di insensibilità. È possibile. E così, ricordando quei fatti, quegli eventi, quel dramma terribile dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, in cui sono morti, sono stati annientati dieci milioni di persone, di uomini, uomini, donne e bambini, di cui sei milioni di ebrei. Mi sono ricordato di altri fatti che per anni che ci riguardano, che noi abbiamo tenuto nascosti, che non abbiamo detto, le foibe, di cui parlavamo prima, Cefalonia. Cefalonia, un dramma terribile. Un dramma terribile. Cefalonia, hanno fatto anche diversi film, no? Quello di Salvatore. Sì, sì, sì. Di cui per anni non se ne è parlato, perché non bisognava urtare. Invece no, noi ne dobbiamo parlare. Ecco, questo diciamo le persone, questo è importante. Perché ricordare vuol dire prendere coscienza, vuol dire far capire che a certi livelli di aberrazioni non è consentito arrivare. Allora ecco che l'impegno, ma non a chiacchiere, non a parole, ma con fatti, con comportamenti, a fare in modo che certi eventi non succedano più. Ieri però, ieri, giorni passati, secondo me abbiamo assistito a fatti, ad avvenimenti che fanno capire che noi di quella lezione di storia non abbiamo. Ecco, nello specifico non abbiamo. Un evento che tu proprio non hai digerito è stata la venuta dell'iraniano da noi, no? Ma l'evento che non ho digerito diciamo è duplice, diciamo, insomma, ecco. Quello della copertura dell'estate secondo me è un fatto vergognoso. Ma non lo dico io, lo dice il mondo, lo dice il mondo occidentale, lo dice. Ci sono stati dei grossi... è un altro fatto che noi dovremmo notare perché le cose hanno sempre un significato che va oltre le apparenze. Il fatto che certi eventi si svolgano a cavallo di una ricorrenza che avrebbe dovuto che avrebbe... cioè che non avrebbe dovuto svolgersi una visita di una personalità che dice che Israele deve scomparire dalla faccia della terra una visita del genere con tutti gli onori non può avvenire il giorno prima della Shoah. Questo secondo me è un regalo che abbiamo fatto ai negazionisti, a quelli che dicono che non è vero che la Shoah non è vero che è tutta un'invenzione. Eppure c'è ancora tanta gente che porta sulle braccia ancora per poco però le avremo i numeri di matricola che gli hanno inciso all'ingresso dei campi di concentramento. ieri tutte le televisioni internazionali internazionali del mondo hanno dedicato tanti filmati tanto spazio a questo evento tra questi quali hai scelto tu di seguire? Cosa hai seguito ieri da questa lezione di storia terribile? Io volevo volevo capire che cosa qual era la sensibilità quali erano le cose che venivano proposte al pubblico affinché non si dimenticasse affinché rimanesse la memoria e quindi ho fatto molto zapping ho visto un po' di tutto ecco quindi non ho seguito qualcosa di particolare e poi una cosa io sono un soldato sono stato un soldato ma lo sono lo sarò sempre va bene ma certe cose io non riesco a sopportarle per cui anche per questo per curiosità per vedere che cosa ecco ma non ho voluto approfondire nulla perché troppo doloroso per me sarebbe stato vedere perché tanto le cose le sappiamo ecco io non ho più bisogno i giovani hanno bisogno io non ho più bisogno ne ho già viste tante avellino è una città che ha memoria al rispetto della propria memoria che sensazione non dobbiamo essere propositivi ma io voglio essere propositivo però in questo caso se mi parli una città che ha memoria beh è una città che ha memoria cerca di preservare la sua storia i suoi ricordi le sue ciò che ricorda il suo passato avellino secondo me mi spiace sta dimenticando diciamo così sta dimenticando vuole dimenticare è troppo presa da altre cose non ho capito che cosa però dove tira dove mira a cosa tende ma se non ci rifacciamo la nostra storia se non prendiamo coscienza da dove veniamo che cosa siamo stati non riusciamo a capire che cosa siamo neanche cosa vogliamo secondo me la città avellino è una città con scarsa memoria e scarsa coscienza di sé scarsa identità ecco non lo so io vedo la senti frammentata la sento frammentata ma slegata proprio così slegata senza senza un'anima ma questo lo avvertisco è durissima eh sì lo so è triste io sono stato 40 anni fuori ma sono tornato figuriamoci perché sono tornato perché avevo un ricordo quando sono tornato io ho trovato una città che non riconoscevo più allora ai miei tempi noi eravamo divisi in quartieri ecco ci riconoscevamo dal quartiere anche per come parlavamo anche per certe parole certi modi di dire ci riconoscevamo chi era del Carmine chi era della Ferrovia chi era dei Platani e chi era ecco tanto così del Duomo ecco quindi c'era c'erano delle tante identità che poi si ricomponeva in questa questo sentirsi a Bellini l'ho trovata in tante parti che non comunicano più che non comunicano più ma non c'è comunicazione tra le persone ma anche tra le persone e le istituzioni secondo me e questo c'è una distanza c'è una distanza ci sono tanti piccoli mondi tanti piccoli interessi che però non riescono a trovare un punto di sintesi che li possa unire li possa così far sentire comunità io c'è deve ammaiarsi questa città tanto per dire c'è c'è la zona del corso ma non sono entità che tra di loro si integrano e e e che e che condividono dei valori attuali dei valori passati e che sui valori attuali cerca di costruire un futuro quindi è una città da ripeto da ammaiare affettivamente anche architettonicamente urbanisticamente è un tessuto anche etico da dover no? da dover ricomporre da dover ricomporre cioè far sentire ricomporre questo questo senso di comunità ecco che secondo me è molto la idea e questo credo che forse probabilmente è stato dovuto al terremoto perché col terremoto c'è stato uno spostamento di popolazioni sono cambiate cose un mescolamento di persone per cui nella stessa zona vivevano gente che semmai non si conoscevano l'altra faccia della medaglia è che Avellino è una delle città che ha il più grosso forse in campagna ma non voglio esagerare il rapporto tra numero di abitanti e forse giovani di volontariato è altissimo cioè è capace di grandissima solidarietà Avellino e provincia e il rapporto forse con la istituzione che è difficile i cittadini e le istituzioni devono avvicinarsi di più ecco grande volontariato un insieme di gruppi di associazioni di volenterosi che cercano di che però non riescono a trovare un punto di sintesi ecco questo anche lì perfetto questa è la problematica è una terra ricca ricca di storia ma ricca di valori ricca di cultura è ricca di quello che ha di agricoltura di paesaggi di tutto però manca un progetto omogeneo però manca un progetto omogeneo manca la capacità di mettersi insieme di aggregarsi di fare sistema volevo fare una domanda perché la cosa diciamo questa trasmissione è dedicata alla memoria e alla pace ed è la città di Avellino chiede la pace nel mondo e poi chiede la pace nei propri luoghi dove la gente vive ti preoccupano Francesco tutte queste espressioni nel mondo di ancora oggi di antisemitismo allora l'antisemitismo è un male che persegue l'umanità da sempre l'Italia da questo si era mantenuta completamente fuori se ricordiamo con l'unità d'Italia 1861 i ghetti vengono chiusi gli ebrei si integrano vengono assimilati diciamo vivono e accettano ecco partecipano al risorgimento gli ebrei bene e fino alla fine dell'ottocento non esiste un problema ebraico in Italia è vero che non sono molti perché forse sono stati 20-25 mila credo però ecco sono completamente integrati a fine ottocento quando nasce il sionismo in Italia assolutamente non ha seguito il sionismo perché gli ebrei italiani si sentono completamente integrati vivono nella comunità fanno parte quando è muta gli incomincia il sionismo e quindi come contrapposizione all'antisemitismo a fine ottocento primi novecento la prima guerra mondiale segna una battuta di arresto sia del sionismo che quindi di converso dell'antisionismo e dell'antisemitismo perché c'è una adesione completa degli ebrei come a tutti gli italiani alla prima guerra mondiale alla prima guerra mondiale e così si prosegue fino agli anni trenta poi a un certo punto a un certo punto si cerca di costruire un antisemitismo che però non attacchisce nella popolazione e si arriva poi alle leggi razziali ecco ma in fin dei conti nonostante le leggi nonostante una propaganda terribile fatta dal regime per alimentare questo antisemitismo in realtà non entra nella mente e nei cuori degli italiani per cui poi con le leggi razziali gli italiani si prodigano mettono a rischio la propria vita per cercare di salvare gli ebrei quindi noi non abbiamo ma l'antisemitismo si nasce si innesta e questo lo vediamo negli altri paesi dove questo è stato molto forte e lo è ancora sul razzismo sul razzismo l'Italia non è stata razzista ecco è stata in Italia c'è stato il campanilismo ecco ma il campanilismo era un contrasto per il campanile ecco ma non per la razza non per non contro non contro non contro ecco quindi per questo l'Italia in fin dei conti è tra i paesi europei sicuramente è quello in cui c'è meno razzismo e meno antisemitismo quindi non è un problema questa esperienza che stiamo vivendo oggi di questa di questo terrorismo internazionale basta andare a Roma basta andare nelle nelle città di un certo interesse europeo non parliamo dei piccoli centri dove ancora non si percepisce è tangibile la paura della gente condividi questo atteggiamento di paura la capisci questa paura la comprendi cioè se tu vai a Roma domenica davanti San Pietro vedi che si è ridotto non dico della metà la presenza del cattordicesimo mondiale ma si è ridotta cioè come vivi tu questo questo momento della nostra storia così pieno di paura e di ansia diciamo che che noi i problemi dobbiamo affrontare noi non li abbiamo affrontati noi li abbiamo subiti subiti i nostri e letti in un certo modo ecco abbiamo cinque minuti ci sono ci sono cioè motivi per avere favore come dobbiamo comportarci individualmente rispetto a questa situazione dobbiamo comportarci per dire cioè facendo rispettare le regole noi dobbiamo far rispettare le regole ci sono delle norme ci sono delle regole noi dobbiamo pretendere che queste vengano rispettate in Italia purtroppo e tutti lo sanno questo è il guaio che in Italia si può fare tutto tanto tanto non succede nulla si può fare tutto noi abbiamo sviluppato fortemente il il senso del diritto del diritto del diritto ma abbiamo cancellato completamente i doveri ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole senza doverne dare conto e risponderne ad altri però certo oggettivamente la paura di questi attentati di queste minacce un po' serpeggia anche tra la gente semplice qual è l'atteggiamento interiore psicologico da assumere perché noi esprimiamo la voglia di pace e non abbiamo paura del terrorismo ma questo io non saprei dire come 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 fai io ho detto secondo me dovremmo pretendere che le nostre regole vengano in assoluto dovremmo essere convinti noi della giustezza delle nostre regole ecco quindi se siamo convinti allora le rispettiamo e pretendiamo che siano rispettate il fatto che neanche noi siamo convinti più noi siamo presi dal 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 dubbio dal relativismo noi accettiamo tutto purché gli altri ci consentono di fare tutto ciò che noi vogliamo e questo nasce anche da un certo atteggiamento della della chiesa cioè il fatto accettiamo tutto perché così perché siamo tutti fratelli non si modifica ecco e sì è vero però ci sono delle regole che dovremmo rispettare perché la convivenza civile è fatta di regole se noi non rispettiamo le regole non ci può essere convivenza ma solo contrasto ecco che film stai vedendo in questo periodo film sì che tipo di ecco filmografia ami ti faccio 5 6 domande e chiudiamo la trasmissione diciamo che velocissime non ho visto Zalone non l'ho visto no di quei film che ami di più ma no il cinema non mi attira cosa stai leggendo ma sto leggendo un po' di storia del storia che degli anni 20 30 40 stai riscoprendo un po' la storia sto cercando di capire perché da dove nascono certi problemi che abbiamo adesso allora sono dovuto andare ecco non so sul periodo della resistenza il periodo successivo la costituente come nasce la costituzione qual è stato il dibattito che si svolta all'interno della costituente per cui si è pervenuti a quella che è la nostra legge fondamentale cioè per cercare di capire a riuscire tutte queste esperienze intellettuali e di vita un messaggio così di pace che tu è un invito a capire anche la storia che viene e così hai una telecamera di fronte allora dico che la pace è una conquista che bisogna fare giorno per giorno non è un dono che qualcuno ci fa ogni giorno con il nostro modo di essere di comportarci in famiglia e nelle relazioni con gli altri dobbiamo esprimere quindi un modo un atteggiamento un modo di essere di comportarsi che deve essere coerente e finalizzato non solo parole ma comportamenti adeguati a quello che poi esprimiamo spesso noi parliamo di pace utilizzando parole di guerra e non si può costruire la pace quando si incita all'odio si incita alla sopraffazione dell'altro o al bloccare togliere la parola agli altri no questo così non non si perviene diffondere la pace senza utilizzare mai le parole della guerra è molto bella la frase che hai detto ma io penso cioè la pace diceva qualcuno è una predisposizione dello spirito e quindi innanzitutto dobbiamo essere in pace con noi stessi per poi poter parlare di pace e poter poter diffondere la pace ecco ma la pace non non si ottiene non si conquista facendo finta di non vedere no noi dobbiamo vedere se c'è bisogno di impegnarci in prima persona dobbiamo essere pronti a impegnarci in prima persona per la pace ma non solo con parole ma con fatti con comportamenti e con azioni serie concrete effettive anche mettendo a rischio la propria vita come fa il soldato grazie grazie di questa bella testimonianza di questo anelito proprio alla pace costruita momento per momento una pace che rende giustizia anche a coloro che sono morti nei campi di concentramento in questo tremendo periodo della storia nazista io ringrazio per l'esperienza che ci ha portato per la tua esperienza ti auguriamo così ogni bene a te e alla tua famiglia io ti ringrazio ringrazio te per l'opportunità che mi hai dato di parlare con un amico ecco appunto serenamente di cose che sento ecco ma io ho sentito che sento sei molto vero quindi no non c'è bisogno di alcun commento salutiamo i nostri telespettatori e ci risentiamo la prossima settimana con un altro ospite intanto ci salutiamo proprio alla luce della pace del rispetto e della coerenza dei nostri comportamenti grazie generale di francesco e di francesco e di francesco e di francesco ciao di francesco di francesco di francesco di francesco di francesco di francesco